Stavo usando questo strumento di intelligenza artificiale per divertimento, ma poi ho trovato questo altro sito web in cui posso semplicemente copiare e incollare immagini da quello strumento. E ho godegnato oltre 1000 dollari facendo questo, e non c'è dubbio che questo sia il modo migliore per fare soldi online, perché non hai bisogno di una fotocamera, non hai bisogno di scattare foto, e questo non è un trucco di Instagram. Questo strumento di intelligenza artificiale genererà le immagini uniche per te completamente gratuite. Puoi copiare queste immagini e incollarle su questo sito dove verrai pagato 70 centesimi per visualizzazione sulle tue immagini, il che significa che non devi vendere nulla e verrai pagato ogni volta che qualcuno visualizzerà le tue immagini. Ma l'unica cosa che devi tenere a mente è che non puoi caricare immagini su questo sito che appartengono a altre, o le immagini create di altre protette da copywriting. Perché verrai bannato dal sito? Non preoccuparti, ti mostrerò questo strumento di intelligenza artificiale che ti aiuterà a generare immagini completamente uniche, che puoi utilizzare gratuitamente e fare soldi online. Quindi il primo passo è visitare questo sito web. Ti rivelerò il nome di questo sito web tra un minuto, ma come puoi vedere ci sono diverse immagini di animali, della natura e alcune bellissime località, e molte altre, così puoi postare qualsiasi immagine su questo sito web, ma dovrebbe essere unica e dovrebbe essere creata da te. Ora per il secondo passaggio vuole che tu venga in cima a questa homepage e fai clic sull'opzione come funziona proprio qui. Nella pagina successiva puoi vedere che verrai pagato quando le tue foto vengono visualizzate. Non è richiesta la vendita e non hai bisogno di follower, per questo verrai pagato 70 centesimi ogni volta che qualcuno visualizza le tue immagini, il che è anche più alto di YouTube e Spotify. Ne hai solo bisogno di 15 dollari per ritirare i tuoi soldi da questo sito web. Ed è molto facile guadagnare i tuoi primi 15 dollari sul sito perché vieni pagato per visualizzare la tua immagine. Tutto quello che devi fare è caricare le foto che creerai utilizzando questo strumento di intelligenza artificiale. Altri utenti di questo sito web vedranno le tue immagini e verrai pagato per ogni visualizzazione sul sito. Ora il terzo passaggio è registrarti sul sito clickasnap.com. Quindi fai clic su questo pulsante blu di iscrizione in alto nella pagina successiva. Devi solo compilare la tua email, creare la tua password e fare clic sul pulsante di registrazione. Quindi su questa pagina devi scegliere il tuo piano. Da un piano gratuito a un piano venditore professionista. Ma come puoi vedere nel piano gratuito non verrai pagato per le visualizzazioni. Mentre nel piano a pagamento verrai pagato per visualizzazioni. Ma non preoccuparti, ti mostrerò da dove puoi ottenere 2 dollari. Ora è completamente gratuito. In modo che tu possa ottenere questo piano gratuito di annunci dove riceverai un pagamento per la visualizzazione delle tue immagini. Una volta selezionato il piano del tuo account, atterrai su questa pagina dove puoi impostare il nome del tuo profilo. Creare un URL unico per il tuo canale sul sito, aggiungi la descrizione e aggiungi l'immagine del profilo. E quindi fai semplicemente clic su conferma in fondo a questa pagina. E dopodiché il tuo account sarà pronto e potrai iniziare a guadagnare online copiando e incollando immagini. Se vuoi puoi guardare questo video dettagliato per capire come verrai pagato sul sito. Dopodiché tu devi verificare il tuo ID e email per configurare correttamente il tuo account. Quindi fai clic sul link, ti verifica e è inviato alla tua email. Il tuo account verrà verificato e puoi iniziare a usarlo per fare soldi. Per il quarto passaggio voglio che fai clic sul Marketplay nella parte superiore del sito web. Scorri verso il basso un po' e seleziona People. Da qui puoi vedere che le persone vendono le loro immagini per soldi. Puoi anche vendere le tue immagini se vuoi. Ma questo non è quello che voglio che tu faccia. Quindi seleziona le foto dei membri dall'angolo in alto a sinistra. Come puoi vedere ci sono molte immagini di membri di questo sito e la maggior parte di queste immagini hanno solo una faccia dei membri. Possiamo dire che queste immagini sono simili alla foto formato tessera solo che stanno facendo soldi condividendo questa foto sul sito. E questa è l'opportunità per noi di fare soldi. Con questo ma non è necessario mostrare il tuo volto o utilizzare le tue foto per questo. Lo strumento di intelligenza artificiale ci aiuterà a creare immagini del volto umano completamente uniche. Ora se fai clic sul caricamento ho atteso questa pagina dove puoi selezionare le tue foto. Da qui o puoi semplicemente trascinare i tuoi file in questa casella. Per caricarle puoi caricare i file in formato diverso. Ma tieni presente che puoi caricare solo quelle foto che tu possiedi altrimenti verrai bannato dal sito. Se usi foto di proprietà di altri, anche alcuni canali su YouTube ti mostrano di utilizzare le immagini libere da copyright di Google e caricarle qui. Ma anche quel metodo è sbagliato. E il tuo account verrà bannato. Non puoi usare nessuna foto disponibile su Google. E non puoi caricare qualsiasi filmato di stock gratuito o a pagamento su questo sito web. Devi solo caricare le immagini create da te. E per questo il quinto passaggio è andare su Google e cercare il fotogeneratore Free A fotogeneratore. Puoi scegliere uno o qualsiasi di questi strumenti disponibili su Google. Ma quello che ho usato è questo generatore .photos. Quindi per esempio se selezioni questo ti porterà la sua home page. E come puoi vedere qui puoi creare foto di alta qualità. Usando questo strumento puoi personalizzare ogni cosa nelle tue foto uniche. Puoi personalizzare l'età, genere, occhi, capelli, sguardi, ecc. Tutto ciò che devi fare è fare clic sull'opzione inizia a navigare e registrarti gratuitamente su questo sito. Una volta che ti sei registrato puoi fare clic qui sulla Face Generator. E quindi seleziona Genera Volti nella pagina successiva ti porterà a questa pagina dove puoi creare foto completamente gratuite. Così puoi vedere che c'è un'immagine sullo schermo. E se vuoi cambiare questa immagine basta fare clic sull'opzione Faccia casuale in alto. E cambierà immagine per te ogni volta che fai clic su questa opzione. Faccia casuale Face Generator questo strumento ti mostrerà le immagini che sono uniche e non sono disponibili su internet perché è lo strumento di intelligenza artificiale che ha appena creata questa immagine per te. Ora puoi cambiare il sesso di questa immagine selezionando l'opzione maschio o femmina. Sul lato sinistra fai clic su aggiorna faccia e cambierà il sesso di questa immagine. Per te ora puoi anche cambiare le emozioni sul viso selezionando diverse emozioni disponibili. Quindi ad esempio se selezioni l'opzione neutra e fai clic su aggiorna viso caricherà e cambierà l'emozione del viso dal viso sorridente a viso neutro. E se selezioni viso sorpreso e fai clic su aggiorna viso cambierà il viso nella foto sorpresa. In questo modo puoi anche cambiare la pelle. Nella foto dalle opzioni disponibili e puoi scegliere la lunghezza dei capelli. Puoi scegliere gli occhiali per la foto, trucco per occhi e labbra eccetera eccetera. Così puoi giocare e creare la foto migliore e l'unica usando questo strumento di intelligenza artificiale in soli 5 minuti. Dopo quello basta fare clic sull'opzione di download sotto la foto e scaricare questa immagine sul tuo dispositivo. Quindi tornare a fare clic su snap.com e caricare la tua immagine. Dalle un titolo accattivante come se solo l'unico per cento le persone potessero leggere questo testo scritto sul suo viso. E nella descrizione puoi anche scrivere. Questa è una sfida divertente per aiutarti a scoprire se sei o meno nel 1% delle persone nel mondo. Quindi puoi aggiungi diversi tag relativi a questa immagine. Come bella ragazza nella categoria puoi scegliere bellezza da qui e quindi fai clic sull'opzione di conferma. Da qui e la tua immagine sarà visibile alle altre. E la cosa buona è che puoi caricare immagini illimitate su questo sito web e puoi guadagnare dinaro illimitato. Il sesto passaggio è fare clic sulla tua immagine e ti mostrerà molte opzioni sotto la tua immagine. Fai clic sulla sua opzione di visualizzazione proprio qui e ti porterà a questa pagina dove puoi vedere la tua immagine. Ora voglio che copie l'URL della tua immagine da questa barra in alto. E vai sul sito chiamato ingur.com. Come da web simile, ingur riceve oltre 190 milioni di visitatori ogni mese. Quindi puoi fare i conti se solo 100.000 persone guardano le tue immagini. Guadagnerai un sacco di soldi ogni singolo mese. E tutto ciò che devi fare è registrarti gratuitamente su ingur. E una volta effettuato l'accesso al tuo account, fai clic sull'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra. Seleziona post da lì, ora fai clic su nuovo post e dalla pagina successiva scegli la foto che abbiamo creato usando lo strumento di intelligenza artificiale e caricarla. Quindi per il titolo vai su clicca snap.com e copia il titolo di quella immagine da qui e incollalo. Nell'opzione del titolo su GUR post e incolla lo stesso titolo nella descrizione di questo post e scrivi qualcosa. Come il 99% delle persone non riescono a cliccare su questo link per visualizzare l'immagine e grandezza naturale. Prendi il link dell'immagine da clicca snap.com e incolla il link accanto a questo testo e puoi fare semplicemente clic sul post nella community e il tuo post sarà visibile a oltre 190 milioni di persone. Su questo sito web e ogni volta che le persone faranno clic su questo collegamento verranno indirezzato a questa immagine dove possono visualizzare l'immagine completa e faremo soldi su ogni visualizzazione che otterremo. E' tutto per oggi, iscriviti al canale, il conoscimento per guadagnare 2 dollari, fai clic su questo video visualizzato sullo schermo in questo momento. Grazie per la visione!